E' ancora in corso la consegna delle liste dei candidati alle prossime elezioni amministrative del Comune dell'Aquila. 24 le liste previste, ma il numero esatto sarà noto solo nelle prossime ore, quando le operazioni saranno concluse. Alle 12 infatti sono state chiuse le porte dell'ufficio di ricevimento, ma i delegati in fila all'interno sono rimasti ad attendere il proprio turno. Per il grande afflusso dell'ultimo minuto i funzionari del Comune si sono dovuti dividere i compiti. Le liste infatti sono state ricevute e depositate anche in una scrivania improvvisata nel corridoio. A vigilare sulle operazioni anche il segretario comunale, il dottor Pirozzolo. Come ogni anno dunque, le liti, le rinunce, i problemi dell'ultimo minuto hanno creato la solita calca e confusione per la presentazione delle candidature. Molti delegati infatti, quelli più navigati specialmente, si sono messi in fila di fronte alle porte di Villa Gioia già dalle 7 di questa mattina.